Capitolo 27 Per le settimane successive, alle prove, Tony mi mette in coppia con la ragazza con i capelli da folletto per imparare le battute. Si chiama Sage, è allo stesso identico carattere di una labradoodle. È vivace, energica, è talmente ansiosa di farsi benvolere che ti viene voglia di puntare addosso un tubo per innaffiare. E così scopro che quando non si muove nell'ombra di Kenzie è gentile e fin troppo entusiasta di aiutarmi a imparare le mie battute. Dice che è contenta di fare qualcosa di diverso dallo stare a trastullarsi come sostituta di Kenzie. Le piace avermi come riserva, così non deve preoccuparsi che qualcuno le avveleni il pranzo per ottenere la sua parte, dice. Un pranzo letale? In carrazza di teatrino sono entrata. Sul palco, Asad con un martello mette insieme la fattoria di Dorothy. Una parte di me vorrebbe avere ancora addosso la maglietta nera dello staff, aiutare dietro i tendoni e parlare con le battute della vecchia scuola di Broadway, al posto di imparare le mie. Ma, guidata dall'energia infinita di Sage, nel giro di un paio di settimane imparo le mie canzoni. Una versione iperattiva di Welcome to Mookinland è una canzone di bassissimo livello dal titolo Already Home e divento un tutt'uno con il flusso delle prove. Quando mi posiziono sui miei segni, leggo le mie battute. Tutto mi investe di nuovo, come una sveglia che arriva dalla mia vecchia vita. Perfino Kenzie mi sta per lo più alla larga, se non per qualche sporadico commento beffardo su quanto sto migliorando e su quanto mi sto impegnando. Sage mi racconta che Kenzie è rimasta furiosa per una settimana per via dello scherzo di Asad con il sipario. Non che non ce lo meritassimo, commenta, seduta a gambe incrociate sul palco, fa un sorriso sincero. Certo, il fatto che tu le abbia rubato l'amica non aiuta e nemmeno che Tony vada in giro a dire a tutti che tu avresti dovuto essere Dorothy. Mi si avvicina un po' di più, gli occhi guizzano tutti intorno per controllare che nessuno ci spii. Prima dell'incidente non era così. Diabolica? Propongo. Intensa, sussurra Sage. Credo che quell'incidente abbia cambiato un po' tutte noi. Si tira su una manica e mi mostra una linea spessa e rugosa che fa il giro dell'avambraccio. Nell'auto c'eri anche tu. Già, Piper è quella a cui è andata peggio, ovviamente, ma tutte abbiamo cicatrici. A mano a mano che la data dell'intervento si avvicina e fuori comincia il disgelo, mi sento me stessa più di quanto mi sia mai successo dal giorno del risveglio. Una sera, mentre mi mette la crema, Cora mi dice addirittura che ho cantato sotto la doccia. Io obbiascico delle scuse imbarazzate, ma lei si limita a ridere. Non varrà mica a smettere. È bello sentire di nuovo un po' di musica in questa casa. Un pomeriggio di metà aprile, io e Piper si amocchine sui libri, su un tavolo rotondo in biblioteca, durante l'ora di studio individuale. Lei si dedica freneticamente ai compiti di algebra, mentre io cerco di capire come scrivere un tema di cinque pagine su una poesia di cinque versi, quando Asad sbatte un volantino in mezzo a noi sul tavolo. Sabato sera, signore, l'evento teatrale della stagione. Una ragazza seduta al tavolo accanto al nostro bisbiglia. Shhh! Piper la zittisce a sua volta e si impossessa del foglio, dà un'occhiata e lo spinge verso Asad, scuotendo la testa. Non sono proprio dell'umore giusto per andare ad una festa, dice, soprattutto a casa di Kenzie. Ultimamente Piper non è dell'umore giusto per fare niente. Niente. Ieri, quando un ragazzo in corridoio ha fischiato e ha fatto un brutale commento sul suo tatuaggio, a malapena se ne accorta. Voglio dire, lo ha colpito al polpaccio con la sedia a rotelle, ma non ci ha messo il cuore, ecco. Prendo il volantino, serata pre-spettacolo. Questa festa potrebbe essere proprio quello che ci vuole per riportare in vita la Piper stile fai pure, ti sfido, è dito medio all'universo, quella che verrebbe solo ed esclusivamente per rompere le scatole a Kenzie. Sembra divertente, dico. Piper mi guarda aggrottando le sopracciglia. Tu, Ava, la timidona, vuoi andare ad una festa? Anuisco, mentre la ragazza dell'altro tavolo ci zittisce ancora e lancia a Piper un'occhiataccia seria. Contenta tu, dice Piper, alzando la voce di proposito, e poi Asad non ti ha ancora detto la parte peggiore. Gli occhi di Asad si muovono fulminei e lui non prova nemmeno a tenere a freno le dita aspiritate. È in maschera. Dopo la scuola, mentre fruga nel mio armadio, Piper mi spiega il rito annuale della festa con il cast e lo staff. Tutti si travestono da personaggi di Broadway per vincere i biglietti per uno spettacolo dell'Eccles Theatre in centro. L'anno scorso Piper, Kenzie e Sage hanno vinto vestite da ballerine di Chicago, con calze a rete, giacca nera e bodi e cilindro. È stato epico. Certo, partivamo avvantaggiate, dato che i biglietti li comprano i genitori di Kenzie. Piper si ferma e solleva un abito a maniche lunghe con colletto alto. Scusami, sai perfettamente di essere una sedicenne con una coppa C dignitosa, vero? Allora perché mi sembra di stare davanti all'armadio di un'anziana vedova? Le strappo di mano l'abito e lo lancio su un mucchio sempre più alto di vestiti eliminati. Non è così brutto. Piper ne prende un altro. Oh, e questo è così brutto. Cora mi ha comprato delle cose in un negozio di seconda mano. Io metto soprattutto i vestiti che ho ereditato da Sara. Piper interrompe la ricerca e osserva il mio guardaroba. Affondo le mani nelle tasche della felpa che ho addosso, con la scritta San Diego, in lettere svolazzanti. Io non ci sono mai stata. Ti metti i vestiti di una ragazza morta? Provo a spiegarle che non è così strano. Io e Sara avevamo un accordo, per cui potevamo prendere in presito qualunque cosa. Ogni volta che venivo a trovarla, tornavo a casa con la borsa piena per metà dei miei vestiti e per metà dei suoi. Prendo una maglia motivo cashmere, indubbiamente orribile, che Piper tiene in grembo e la ficcio in fondo al mio armadio insieme alle altre atrocità da negozio delusato. E comunque cosa stai cercando? Un'ispirazione. Piper strappa un abito formale dalla profondità dell'armadio e me lo porge. E questo potrebbe andare? Faccio scorrere le dita lungo il tessuto di raso dell'abito verde che Sara aveva indossato al ballo del secondo anno. L'avevo pettinata con dei ricci a spirale e Cora aveva fatto circa un milione di foto all'accompagnatore di Sara che le appuntava goffamente il mazzolino di fiori e tutte avevamo finto di non notare le sue dita sfiorare per sbaglio la sua tetta due volte. Eccolo, urla Piper. Si mette in faccia la mia maschera in silicone. Nel reparto ho visto gente che le portava e ho pensato che fossero veramente strane. Ma per questo è perfetta? Per cosa esattamente? Pronto! Il personaggio di Broadway è più ironico di sempre. Il mio cervello si mette al passo con il suo. Ha avuto altre idee da spostata. Ma questa è come andare incontro ad un treno in corsa. No! Sì, il fantasma! Nel senso del fantasma... Del fantasma dell'opera? No! Nel senso del fantasma del castello autostradale. Quello dell'opera, certo! Affera l'abito verde che sto per lanciare sul mucchio degli scarti e io mi vestirò da Christine. Prendo la maschera e me l'appoggio al viso in modo che Piper si renda conto di cosa sta proponendo. Vuoi che vada alla mia prima festa da quando sono in questa scuola vestita da eremita psicopatico e deforme? Piper annuisce. È un suicidio sociale, dico. È un colpo di genio, dice lei. Come quando hai un brufolo in faccia e non vuoi che ti prendano in giro. Allora ne parli tu per prima, così nessun altro può farlo. Tendo l'elastico dietro la testa e sento la familiare claustrofobia del mio respiro caldo intrappolato sotto la plastica. Piper, qui non si tratta di macchie dell'acne. Ascolta, se tu arrivi nei panni del fantasma è come sfidare gli altri a prenderti in giro e se lo fanno sono degli sfigati totali perché la battuta l'hai già fatta tu e di tua proprietà. Le mie cicatrici sono di mia proprietà. Piper prende una sciarpa dal mucchio di vestiti sul pavimento e se la mette al collo. Sì, cara. Tu sai usare le tue cicatrici. Sono fantastiche perché tu sei fantastica. E tu sei pazza. Ma vederla sorridere è così bello che non tento nemmeno di oppormi. Piper esce dalla stanza sulla sedia a rotelle cantando a squarciagola mentre il tatuaggio si muove insieme alle sue scapole come una fenice in volo. The Phantom of the Opera is here inside my mind. Il sabato sera mi preparo davanti allo specchio del bagno. Mi sistemo la maschera che io e Piper abbiamo dipinto per metà di bianco per assomigliare di più al fantasma. Pur considerandola un'idea macabra Cora mi aiuta a indossare un mantello nero. È una parrucca che Glenna ha usato una volta per impersonare Dracula. Si mette in piedi dietro di me e spazzola le ciocche della parrucca proprio come faceva mia madre con i miei capelli. Sei sicura di quello che stai facendo? Chiede per la ventesima volta. Allo specchio la parte di maschera dipinta mi copre metà viso mentre l'altra metà mi appiattisce leggermente la pelle la levica e la rende palida in modo uniforme. Con la parrucca nera pettinata in una coda bassa la camicia bianca e il mantello sembro davvero il tristemente noto recluso di Broadway dal volto sfigurato. Certo, metà del costume è il mio Halloween permanente ma stasera consento a me stessa di credere alla frottola. Sono solo una ragazza che va a una festa. Sì, sono sicura. Mi sento piuttosto bene con me stessa finché non vedo Piper sulla porta di casa mia. Invece di essere raccolti nella sua solita coda di cavallo i capelli le fluttuano sulle spalle i minuscoli ricci tesi che le incorniciano il viso e coprono completamente le cicatrici che ha sul collo. Le altre sono coperte da una guaina compressiva color carne e sopra ci sono le fragili spalline dell'abito verde di Sarah. Combatto contro l'istinto di strapparmi via la maschera e sbattere la porta. Sei stupenda, mi sforzo invece di dire. Glenn fa salire la sedia a rotelle di Piper sul gradino dell'ingresso. Poi fa un passo indietro per ammirarci. Ragazze, state proprio bene, il suo sorriso vacilla quando lo sguardo cade su Piper. Quello è l'abito di Sarah. Piper liscia il tessuto di raso. È un problema, chiede. Glenn torna a sorridere, ma questa volta solo con le labbra. La sua mente è volata altrove. Ti ricordi quando quel mascalzone non riusciva ad appuntarle ai fiori? Cora ride. L'acqua si è pugnalata a morte davanti a noi. Si asciuga gli occhi, bagnati per il troppo ridere. E a questo punto tutti e tre ridiamo insieme. E anche se questo ricordo fa un po' male, è bello averlo. Cora tende la mano a Piper. Certo che puoi metterlo, dice. Sarah sarebbe felice che lo usi. Qualcuno a cui Ava vuole bene. Glenn stringe forte Cora contro il fianco in un mezzo abbraccio. Accanto a lui è così minuta. È come se potesse saltare dritta nel taschino della sua camicia. Piper lo ringrazia e annuncia di avere una sorpresa. Ci dice di guardare bene le sue cosce. E dopo qualche secondo aggrappata, e dopo qualche secondo aggrappata forte al bracciolo, ne solleva una come se marciasse sul posto. Mi guarda raggiante mentre la sua gamba ricade sulla sedia. Alla fine forse avrai la tua standing ovation. Glenn porta Piper alla macchina e Cora ci accompagna alla festa, parlando senza sosta delle dimensioni delle case che a mano a mano che ci allontaniamo dal nostro quartiere si gonfiano fino a diventare vere e proprie regge. I posti auto coperti lasciano spazio al garage da quattro auto e i pick-up diventano BMW. Finché non arriviamo a casa di Kenzie, una colossale atrocità moderna con angoli appuntiti costruita su una collina che si affaccia sulle luci della valle. E Cora si ricorda per la miliardesima volta che possiamo chiamarla a qualunque ora e lei arriverà a recuperarci più in fretta che potrà. Faccio sobbalzare la sedia a rotelle di Piper su per il ripido per la miliardesima. grazie a tutti.